Villa Veroldi, un antico brolo, tutto chiuso tra muri di cinta, un piccolo vigneto di poco più di un ettaro, un ettaro e mezzo, che è praticamente all'interno del paese di Capriolo, un'oasi che viene mantenuta, un'oasi di chardonnay e pinot nero, l'unico vigneto dove contemporaneamente abbiamo piantato chardonnay e pinot nero, questo è un brolo, un antico brolo, dove le famiglie nobiliari di una volta mantenevano le loro coltivazioni più preziose per preservarle dall'agricoltura intensiva, qui coltivavano l'uva, ma anche in serra il loro orto, qualche pianta di agrume, i frutti che servivano per il loro piacere. Ecco, da questo brolo nasce il nostro brolese, un rosè con pinot nero vinificato in rosso, che poi viene assemblato con lo chardonnay al momento del tiraggio, per dare un rosè dal colore abbastanza intenso e di tipologia extra brutto. Grazie. 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 Grazie.